Musica con un po di impasto che è ricasto adesso vi spiego come si fanno dei dolci particolari in questo caso le sto facendo con crema di nocciola di cui le mie fighe le vanno ghiotte ecco fatti i nostri biscotti allora qui in puglia o almeno qui a fasano vengono chiamate focacce fracite e vengono farciti in vari modi sia con la marmellata o con crema di nocciola io in questo caso le ho fatte con la crema di nocciola perché è il mio figlio che piace adesso le informiamo e poi le gustiamo iscriviti al canale